Un distributore automatico di snack e bevande preso di mira per due notti consecutive è caduto a Trani in via Unissanti nelle ore notturne di martedì 7 e mercoledì 8 giugno. I gnoti all'apparenza giovanissima durante il primo colpo hanno rubato dal punto vendita H24 circa 120 euro riuscendo a forzare più di una macchinetta. Nella notte seguente sono entrati in scena altri malviventi ancora non è chiaro se gli stessi della serata precedente uno di loro ha cercato di forzare una delle macchinette con l'ausilio di un piede di porco ad un certo punto scatta l'allarme antifurto ed è allora che i soggetti si sono dati alla fuga successivamente sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di stato. Disperato il titolare del distributore automatico tranese che ha visto la sua attività colpita per ben due volte e in poche ore al di là del bottino da 120 euro portato via dai banditi a pesare sono i danni riportati dalle macchinette per un valore complessivo di 1000 euro. Dopo i fatti è scatata la denuncia ai carabinieri alcuni dei banditi giovanissimi potrebbero già avere le ore contate nel primo colpo infatti i ladri hanno agito a volto scoperto un fenomeno preoccupante quello dei furti alle piccole attività come distributori automatici che a trani non conosce sosta oltre all'attività di via nissanti nei giorni scorsi è stato registrato un altro tentativo di furto in un h24 di piazza teatro qualche mese fa invece abbiamo raccontato gli stessi episodi ai danni di un altro punto vendita automatico di trani situato in corso italia ed ora i gestori sono davvero stanchi ma siamo arrivati a davvero stanchi บarlere